Beh, grande prova di forza dell'Udinese sul campo della Lazio. Va detto che i biancocelesti erano reduci dall'impegno in Coppa Campioni. Inevitabilmente la rosa della Lazio non è che sia così estesa, quindi per loro risulta molto complicato gestire quando era avvicinato il doppio impegno. E infatti l'approccio alla partita della Lazio è stato sinceramente pessimo. Già nella ripresa i biancocelesti più o meno hanno giocato alla pari contro l'Udinese, però nel fratempo ovviamente aveva rallentato perché era andata sul doppio vantaggio. Comunque in termini assoluti, se vediamo tutti i 90 minuti, sicuramente la vittoria dell'Udinese è stata meritata. E' stata meritata perché le palle vaganti erano tutte dell'Udinese, c'era maggiore aggressività, però poi non va neanche, come dire, ridotto a questo la prestazione friulana, perché se vediamo comunque il gol di Pussetto, se vediamo il gol di Forestieri, ma anche il gol di Aslan, sebbene un tiro da lontano deviato, cioè sono azioni che comunque sia sono state costruite bene. Invece nella Lazio, immobile almeno, si è consolato a livello personale superando Signore.